Ci troviamo al Parlamento Europeo con Laura Agea che saluto, grazie. Grazie a te e buongiorno. Laura Agea è europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Con lei molti argomenti abbiamo già avuto modo di conoscere anche in altre circostanze. Ci sono anche molti video con molti interventi che lei ha nel corso delle plenarie di Strasburgo. Questa non farà differenza. Tra i suoi punti maggiori di argomentazione c'è sicuramente quello che noi chiamiamo il reddito di cittadinanza. Per quale motivo è una battaglia che sta andando avanti da quando lei è entrata per la prima volta qui in Parlamento? Era un po' quello che ci eravamo dati come obiettivo, portare questa nostra battaglia di civiltà anche a livello europeo. Tra l'altro accorgendoci poi che questo tema che noi pensavamo fosse prettamente una necessità italiana in Europa è un tema estremamente dibattuto. Molti, quasi tutti i paesi europei si sono dotati di un regime di reddito minimo che va a supporto della disoccupazione piuttosto che di casi di povertà relativa o assoluta. E quindi abbiamo costantemente da due anni e mezzo a questa parte riproposto questa necessità proprio di allargare la visione superando anche quella che era la posizione dei singoli stati nazionali e declinando una sorta di idea a livello europeo fino al punto che circa 4 settimane fa la Commissione Occupazione ha adottato la mia richiesta di discutere, preparare un report, un documento di iniziativa sul reddito minimo, cioè sui regimi di reddito minimo declinati a livello europeo. La cosa che ci riempe come Movimento 5 Stelle di orgoglio è che sono stata nominata dalla Commissione Lavoro relatrice per questo report e quindi avrò la possibilità di scrivere un documento, un testo con quelli che sono anche i principi del Movimento cercando di dare una visione europea di indirizzo su questo tema che per noi è estremamente importante per contrastare la povertà e i suoi effetti. Senza mancanza di rispetto fa sorridere sapere che un parlamentare italiano è stata nominata nel suo caso relatrice quando invece poi si parla di reddito di cittadinanza in Italia partono battute a più non posso come se fosse un discorso di estrema utopia, parebbe che non è così, no? No, infatti è una necessità, un bisogno stringente che noi abbiamo visto alla luce di quello che è il contesto italiano. In Italia oggi ci sono oltre 6 milioni di persone che vivono al di sotto della soia di povertà e se da una parte è necessario stimolare l'economia, farla ripartire attraverso politiche occupazionali efficaci, dall'altra parte è necessario agire oggi per portare al di fuori della soia di povertà a queste persone. Ci sono moltissimi bambini che vivono in condizioni di povertà, di degrado, è importante. Purtroppo ci viene detto che oggi non è una priorità, qua ci siamo resi conto che non è una priorità per gli Stati membri perché si sono dotati di questa misura. Allora serve in Italia, però dobbiamo anche essere predisposti ad allargare la nostra prospettiva cercando di stabilire anche delle linee guida, degli indirizzi stringenti a livello europeo. È la situazione della povertà non solo nel nostro contesto italiano ma anche a livello europeo. In Europa oggi ci sono 120 milioni di cittadini su 500 milioni che vivono al di sotto della soia di povertà. E incominciare a ragionare collettivamente creando massa critica credo che sia estremamente importante. Quali saranno i passi adesso che potrà seguire come relatrice? Stiamo già preparando una bozza di questo documento. Un documento si compone di tre parti dove si fa un'analisi della letteratura che affronta la tematica e quindi si inseriscono dei documenti anche che già esistono sull'argomento. Si fa in un certo senso un'analisi di quella che è la situazione attuale, quindi analizzando quale tipo di povertà. Oggi c'è una povertà non solo materiale ma anche una povertà per esempio energetica, differenziando i tipi di povertà, quella infantile piuttosto che quella derivante dalla disoccupazione di lungo periodo, dai disoccupati giovanili. Quindi si dà una visione della realtà oggi e quindi in questo si tracciano poi delle indicazioni stringenti di quelle che dovrebbero essere le misure, le azioni per contrastare la povertà. Prepareremo questo documento che poi verrà condiviso con gli altri gruppi politici, ognuno dei quali porterà la sua visione e si cercherà di arrivare a una sintesi comune. Il documento verrà prima votato in Commissione Occupazione e poi qua in plenaria Strasburgo. C'è anche un altro aspetto di cui volevo parlare che penso sia molto simile in qualche modo, va comunque nella direzione della sua Commissione che sono i diritti, i diritti sociali. Si parla tanto di questo pilastro. Fu lanciato nel 2015 dal Presidente della Commissione, nel 2016 doveva uscire un qualche cosa, sicuramente nei primi del 2017 uscirà qualche altra cosa, insomma però sono parole, hai fatti? Infatti hai ragione, se ne parla. Purtroppo la parola sociale è entrata nel linguaggio corrente di questa legislatura europea, ma ora bisogna fare uno sforzo concreto di dare veramente non solo un contenitore, ma anche del contenuto pragmatico a questo concetto. Il pilastro sociale è un altro documento che oggi stiamo analizzando e stiamo lavorando in Commissione Lavoro, non senza delle grosse criticità, cercando di dare una dimensione sociale a questa Europa. Purtroppo ancora l'attenzione è molto focalizzata sugli obiettivi economici, cioè non si riesce a dare una connotazione sociale a questa Europa. Oggi questa Europa ha dimostrato di essere un'Europa che punta alla convergenza economica, che punta a questa unione monetaria, ma che ha tralasciato completamente il concetto di sociale. È necessario non solo declinare che cosa vuol dire tripla A sociale, come disse Juncker nel 2015, ma dire che cosa è la tripla A sociale, cos'è questa dimensione sociale e come la vogliamo declinare. Abbiamo povertà, abbiamo discriminazione, abbiamo emergenze continue, non solo quelle a livello sociale, ma anche quelle che arrivano da fattori esterni, come l'immigrazione. È necessario tracciare un sentiero concreto. La povertà energetica è oggi un dato di fatto. Oggi molte famiglie nei periodi, per esempio, invernali, non hanno riscaldamento, non hanno luce, non hanno gas, perché vengono tagliati. Agiamo in maniera concreta. Cerchiamo di dire che, per esempio, non si può togliere i beni essenziali alle persone, ma bisogna incentivare, soprattutto laddove in quei contesti ci sono dei bambini. Oggi, se guardiamo la situazione della Grecia, ci rendiamo conto di come questi obiettivi sociali che l'Europa dovrebbe raggiungere sono ben lontani dall'essere realizzati. Sicuramente, voglio dire, sono poche le parole per cercare di raccontare quello che è l'Europa a 28, insomma, perché noi, come Laura Gea ci racconta, ci racconta di un'Italia, però, pensiamo subito all'Italia, però se andiamo poi a vedere gli altri stati, come appunto la Grecia, voglio dire, una goccia di sudore quantomeno scorre. Ciò nonostante, ci sono degli aspetti su cui bisognerà sicuramente lavorare. Reddito di cittadinanza, leggevo questa differenza tra basic o garantito. Sì, purtroppo c'è un po' di... è necessario fare un po' di chiarezza, diversificare, perché si può parlare di reddito di cittadinanza, che è la declinazione che abbiamo fornito noi alla nostra proposta di legge, che abbiamo presentato in Italia appena arrivati all'interno del Parlamento europeo ed era la nostra proposta di legge, dove abbiamo veramente pensato a un progetto, un progetto scritto che abbraccia tutti gli ambiti che andrà a toccare all'interno della nostra proposta. Per esempio c'è anche la riformulazione e la rimodulazione dei centri dell'impiego, perché ad una base garantita di monetaria che viene data alle persone che vivono al di sotto della soia di povertà, vengono affiancate nella nostra proposta delle politiche attive del lavoro che prevedono ad esempio la riforma dei centri dell'impiego. Qui in Europa si parla di reddito minimo garantito, per esempio, che è poi declinato, secondo il principio di sussidiarietà, dai diversi stati membri. Mi viene da pensare il Belgio, perché ormai comunque vivo lì da due anni e mezzo, loro hanno il cosiddetto chomage, che è una forma di assistenza, di assegno, che viene erogato nei casi, per esempio, di disoccupazione per un certo periodo. Esiste anche, per esempio, ultimamente ne sta parlando molto Elon Musk, il reddito universale, in un cambiamento che sta avvenendo anche nel mondo del lavoro, dove la robotica, dove la tecnologia sta dilagando, sta diventando sempre più preponderante. Per esempio, Elon Musk, che è l'inventore della Tesla, questo nuovo concetto anche di trasporto, eccetera, parla proprio di reddito universale che sopperisce alla perdita dei posti di lavoro. Questo per dire che cosa? Che ci sono diversi fattori che ci impongono una riflessione seria e operativa su come affrontare le sfide e i cambiamenti che da qua ai prossimi 15 anni, nel medio periodo, avremo in termini occupazionali e lavorativi. Dall'altra parte abbiamo però delle emergenze che, per esempio, ci impongono di realizzare nel nostro Paese, almeno che non ce l'ha, un reddito di cittadinanza. La stessa Grecia, che come noi non aveva il reddito di cittadinanza, sta cercando di implementare questa misura. Vorrei e mi augurerei che non fosse l'Italia l'unico Paese che non si preoccupa e si prende cura delle persone che vivono al di sotto della soia di povertà. Per essere relatrice ha sicuramente le idee molto chiare. Mi ha spiegato in pochissimi minuti un concetto veramente molto complicato. Ed è anche una sorta di scommessa, se possiamo così dirla, perché un'Europa che ha la ricerca anche di una politica estera, di una politica comunitaria, magari un approccio sociale comunitario, anche lì bisognerà lottare e magari potrà dare una prima botta a Laura Gea con il suo prossimo rapporto. Chi lo sa? Speriamo, me lo auguro perché ripeto, i poveri sono in Italia e dicevo prima, le cifre sono veramente sconfortanti, sono 6 milioni. Ma se allarghi la visione e guardi la prospettiva europea, abbiamo 120 milioni di poveri in Europa. Sono tantissimi, abbiamo delle emergenze da fronte, su 500 più o meno milioni di cittadini europei ed è inaccettabile pensare che si punta a questa convergenza, a questa economia così preponderante in qualunque tipo di azione, ma non si riesce a occuparci dei cittadini. Guarda, in Italia oggi abbiamo l'esempio dell'emergenza del terremoto, che non è soltanto un danno oggi emergenziale, ma io che sono Umbra, per esempio, sto vivendo uno svuotamento della mia regione e allora occorre che lo Stato cominci veramente a fare un progetto che abbia una visione per come occuparsi dei cittadini, non solo nell'immediato, perché purtroppo il grosso limite oggi è lavorare in emergenza, lavoriamo sull'immediato, ma questo ci fa perdere quella visione di medio e lungo periodo che è non solo necessaria, ma fondamentale per affrontare le nuove sfide che sono dietro l'angolo. C'è un altro aspetto che riguarda, e questo è veramente un discorso, non perché i primi due, e insomma il pilastro europeo dei diritti sociali, il minimum income, cioè il reddito di cittadinanza, non siano seri, ma qua si parla di direttiva cancerogeni. Ebbene, dovete sapere che Marianne Thyssen, che è la commissaria responsabile per l'occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha detto non poco tempo fa l'impatto del cancro sui lavoratori e sulle loro famiglie, sul mondo del lavoro e sulla società è enorme. C'è stata proprio una proposta che, secondo la commissaria, consentirà di salvare 100.000 vite umane nei prossimi 50 anni. La posizione di Laura Gea? Questa direttiva si inserisce in un momento in cui la Commissione Occupazione sta affrontando veramente degli argomenti estremamente importanti. La posizione della Commissione, attraverso Marianne Thyssen, è quella di inserire un altro gruppo di agenti cancerogeni in quelli che già esistono all'interno della direttiva, cioè si vuole ampliare lo spettro. È necessario fare una riflessione molto attenta, noi ci stiamo anche confrontando e stiamo proprio cercando di avere una visione chiara, utilizzando anche proprio l'aiuto e le competenze di tanti tecnici che possono veramente supportarci. La riflessione che stiamo facendo oggi, che i lavori sono appena iniziati, è che molto spesso si guarda a ogni singolo agente in maniera singola, scollegata dall'altro e non si fa una sorta di relazione tra i diversi agenti e tra quelli che sono gli effetti amplificati di quando entrano uno in contatto con l'altro, quindi l'azione continuativa, l'esposizione continuativa ma miscelata tra loro. Effetto domino. Esatto, esatto, quindi stiamo cercando di dare questa dimensione perché non si può solo dire ecco questi sono i cancerogeni, bisogna capire bene come contrastarli e quali sono gli effetti e quali sono gli effetti quando questi diversi agenti interagiscono tra di loro. Purtroppo noi ancora oggi viviamo gli effetti devastanti dell'amianto, una sostanza il famoso Eternit scomparsa ormai dalla produzione, dalla nostra industria ma che ancora è presente diffusamente nel nostro territorio e che manifesterà i picchi della sua recrudescenza proprio adesso, cioè il maggior numero di persone che svilupperanno il mesotelioma pleurico da esposizione all'Eternit oggi si stanno manifestando per i prossimi 15 anni. Ecco perché è fondamentale riuscire ad avere una visione ampia perché per esempio nella tematica dell'amianto all'inizio si era pensato per esempio che l'amianto non si trasmettesse attraverso l'acqua. Oggi sappiamo che i filamenti di amianto non si disperdono nell'acqua e quindi anche le tubature fatte in amianto sono un veicolo di contaminazione e possono veramente creare problemi. Oggi a noi ancora abbiamo il problema dello smaltimento dell'amianto. Ecco perché è fondamentale perché poi ho sentito dire insomma che questi centomila lavoratori che verranno in qualche maniera garantiti, in qualche modo tutelati sono un numero esiguo. Io credo che le leggi, le nostre decisioni vadano prese anche solo se ci fosse una persona a rischio e qui i numeri sono veramente preoccupanti, sono veramente preoccupanti. Non si può parlare in termini di costi, di spese, di investimenti quando l'investimento è l'essere umano e la sua salute sul posto di lavoro perché oggi la crisi ci dimostra che si taglia ahimè sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori laddove invece l'investimento dovrebbe essere massimo. Insomma veramente argomenti interessanti. Abbiamo parlato con Laura Agea, ovviamente potevamo dire molto di più però abbiamo scelto di fare 15 minuti in modo tale che non abbiamo il pubblico a casa e non sarà stata questa l'occasione e quindi la devo semplicemente ringraziare. Grazie a voi, grazie a tutti. Per la consueta disponibilità ricordo Laura Agea, Movimento 5 Stelle e l'avete capito fa parte anche di varie commissioni, quella più importante mi permette la commissione per l'occupazione e gli affari sociali e da qui poi il discorso che dicevamo prima per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Grazie ancora. Grazie a voi. E dunque noi ci vediamo la prossima volta sempre su la redazione.eu.